Allora Armando, ieri uno mi ha scritto, ma chi saranno i candidati novelli alle elezioni comunali ai taxarf? E io ho detto, guarda se domani è tempo buono te ne presento uno, perché tu non hai mutato l'idea, sei deciso con la tua lista civica esiglio di Gattopardi, giusto? Giusto. Oh, e che c'è qua? Che è sta cosa? Niente, questa è una cosa che sto preparando io per i cinque anni. Ah, il programma. Il programma. Oh, ma a proposito, ma come vanno le adesioni, riscontri le adesioni, cioè... Cominciano ad andare un po' meglio. Eh, cioè la gente è interessata a mettersi in lista. La gente è interessata, già, mi ha chiesto tutto già. Eh, fammi vedere questo programma, fammi vedere che dice. Vota Armando. Programma, via la scritta Reagan. I campi sportivi, le strade, la pulizia, le case del comune, esiglio di Gattopardi. Eh beh, questa è la lista proprio. Via tutte le macchinette. Le macchinette quali? Quelli sono i bari, le macchinette di slotte macchine. Ah, e slotte macchine. Eh beh, oh, oh, sei l'unico che ne parla, eh. Perché, eh, questo è stato un sacco di gente. Eh, che gli frega. Un sacco di gente, un sacco di famiglie. Eh, che gli frega. Infatti non ne parla nessuno. Oh, senti un po' una cosa. No, mi piace sto programma perché è un programma di pochi punti, cioè realizzabile. Perché la prima cosa, come se hai letto la viga, ha scritta Reagan. Che vuol dire? Ma che rappresenta? Eh? Ha scritto la stanza in piazza. Quella a Portaire Marconi. Ma che rappresenta? È che è Reagan, è Reagan già perché pare il ramarro. Scusate, io l'ho detto. Ma se abbiamo una parte di Roma. Eh. Arrivano a Roma, fraschiati. Eh. Roma. Questa è la posta di Roma, fraschiati, arriva a Fraschiati. Beh. Ma quello che non vuoi dire, che legge a Fraschiati? Eh no, anzi no, può essere confondito. C'è porca miseria, ancora sto ai taxarf. E quando ci arrivo a Fraschiati? Eh beh, quella è no, c'è ragione, la leviamo. Ma chi sta bene? Stiamo a scherzare, stiamo a scherzare.